Eccomi, allora volevo commentare brevemente la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che come tutti voi, che come molti di voi ho atteso con grande trepidazione nella speranza che ci fossero effettivamente delle notizie, delle novità importanti sulla fase 2 della quale a lungo si discute, da tempo si discute tra l'altro con fiorfiore di esperti e di task force che starebbero lavorando a questa riapertura, poi ascolto la conferenza stampa del Presidente del Consiglio e mi rendo conto che in pratica Conte ci dice che una fase 2 non ci sarà, che la fase 2 è quasi identica alla fase 1, mi stanno scrivendo tantissime persone la ragione per la quale faccio questa diretta chiedendomi di saperne di più, di capirci di più perché ci sono obiettivamente delle cose che non si capiscono, che non si comprendono. Devo purtroppo dire che mi dispiace, non vi posso aiutare, non ne so nulla. Quello che ha detto Conte io l'ho ascoltato esattamente come lo avete ascoltato tutti voi, Conte condivide le sue scelte, le scelte sulla libertà, sul futuro di ciascuno di noi probabilmente con il suo entourage, ma sicuramente non con il Parlamento italiano. Non ne sappiamo nulla, non abbiamo i testi, non sappiamo quali siano le scelte di questo governo, delle task force che ha nominato e quindi io purtroppo non sono in grado di dare le informazioni che mi state chiedendo. Leggeremo i testi, cercheremo come ogni italiano di capirci qualcosa di più. Posso dire a Monte che io non condivido la scelta di riaprire per settori. Tu non puoi stabilire che ci siano interi settori che devono morire per decreto. Tutti, e la mia idea è come secondo me andrebbe riorganizzata la riapertura alla fase 2, tutti coloro che possono garantire le norme di sicurezza che il governo deve stabilire, possono riaprire. Se io devo stabilire delle distanze, se devo stabilire di avere determinati strumenti per la sanificazione, va bene tutto, secondo me la sanificazione se la dovrebbe caricare lo Stato, sono proposte che Fratelli d'Italia ha fatto, ma tutti coloro che possono garantire queste norme devono poter riaprire. Tu non puoi stabilire che se io sono un parrucchiere devo morire, che se io ho un centro estetico devo morire, che se ho una palestra devo morire. Se il parrucchiere può mantenere il rapporto di uno a uno, deve poter riaprire come gli altri. Se il centro estetico ha le cabine per l'autotrattamento, deve poter riaprire. Se la palestra può organizzare le attività, l'apertura delle attività con l'allenamento singolo, deve poter riaprire. Ma chi stabilisce che se io ho deciso vent'anni fa che volevo fare il parrucchiere e adesso non devo avere il diritto di sopravvivere nella vita? Io questo francamente non lo capisco, perché tra l'altro non ha senso. Ma se io ho un ristorante, se io ho un bar, esattamente come fanno oggi i supermercati, stabilisco le regole per l'ingresso distanziato, per offrire il caffè, vendere il caffè o il pranzo o la cena ai miei clienti con le distanze necessarie. Ma perché non posso riaprire? Perché devo stare fermo un altro mese? Che per alcune di queste attività mi dispiace, significa non riaprire mai più. È evidente, lo sanno tutti. Ma che senso ha? Poi altre cose, proprio non si capiscono. E le scuole no, ma i centri estivi sì. Ma se si possono riaprire i centri estivi allora forse si potevano riaprire le scuole. Perché il problema che abbiamo è, come abbiamo detto, che chiaramente ai bambini è difficile spiegare il tema della distanza di un metro. Però perché le scuole no, i centri estivi sì? Non riesco a capire. Ci sono delle cose che proprio mi sono difficili da comprendere. Per il resto ci vorrebbe una logica. E la logica non può essere mai quella della discriminazione. Alcuni settori, bene o male, tentiamo di dargli una mano, altri no. Li facciamo e niente, non riaprete. Chi se ne frega. Io non sono d'accordo. Ma non sono d'accordo perché non è utile. Non sono d'accordo perché non salva nessuno. Rischia semplicemente di massacrare migliaia e migliaia di aziende italiane. E noi stiamo rischiando e rischiamo la desertificazione del nostro sistema produttivo. Quindi abbiamo assolutamente bisogno oggi di occuparci di quel tessuto. Della piccola e media impresa, dei commercianti, della filiera, delle tante filiere che tengono insieme il nostro sistema produttivo. Questa gente ha bisogno di risposte reali. Allora, per carità, abbiamo accettato tutto. Abbiamo accettato di stare chiusi dentro casa, di chiudere i nostri negozi, di chiudere le nostre aziende, di bene o male, insomma, non avere stipendio per un mese, per due mesi, perché ci hanno detto che era necessario per fermare la pandemia. Lo abbiamo fatto. Ma oggi non si può dire se sei di quel settore sei morto. Chi se ne frega. Se sei di un altro settore, beh, intanto puoi riaprire. Io penso che, ripeto, stabiliamo le regole. Chi rispetta quelle regole? Chi può garantire quelle regole? Perché chiaramente non vogliamo manificare gli sforzi fatti. Devi poter riaprire. Quando riaprono gli altri. Tutti insieme. Chi non può garantire quelle regole o quelle prescrizioni che viene dato allo Stato, lo Stato gli deve dare una mano. La sanificazione la deve fare lo Stato a spese sue. Lo diciamo dall'inizio, l'abbiamo sempre detto. Abbiamo fatto gli emendamenti che ci sono stati bocciati. PS. Sono contenta che il Presidente Conte abbia annunciato stasera diciamo il tema, la proposta sull'IVA sulle mascherine. Bella. Io la condivido. La condivido così tanto che Fratelli d'Italia aveva presentato su questo tema un emendamento che è stato bocciato settimane fa. Tanto perché dicono che le nostre proposte sono delle proposte, facciamo le proposte cose così pretestuose. Un'altra di queste cose l'abbiamo proposta, l'annuncia lui stasera noi l'abbiamo proposta settimane fa, ce l'hanno bocciata. Vabbè comunque meglio tardi che mai almeno insomma riusciamo a farli ragionare. Però ripeto, io non sono d'accordo sul fatto che alcuni non debbano riaprire per un altro mese. Perché purtroppo che ci piaccia o no dopo un altro mese alcuni non riapriranno mai più. E lo Stato italiano non può non porsi questo problema. Perché ha gente che ha sacrificato quello che aveva per quell'attività, che ci ha messo il cuore, che ci ha messo il sangue, che ci ha messo la sua vita e non puoi chiuderla per decreto senza dare delle spiegazioni e senza fornire aiuti reali. Mi dispiace ma questo io non lo condivido, lo voglio dire. Faremo ovviamente le nostre proposte, le faremo nei prossimi giorni. Speriamo che qualcuno ci stia a sentire. Ogni volta che proviamo a dire qualcosa ci rispondano che noi lo facciamo perché siamo cattivi. Non siamo cattivi. Siamo semplicemente persone che vogliono dare una mano a questa nazione, che si rendono conto che questa nazione rischia la desertificazione del suo sistema produttivo. E nessuno, diciamo, che sia nella nostra posizione può girarsi dall'altra parte di fronte a un problema del genere. Questo lo volevo dire in diretta e ripeto, volevo dire ai tanti che mi stanno scrivendo, mi è esploso il telefono, io non ho altre informazioni perché nessuno le condivide con noi. Spero che nei prossimi giorni arriveranno i testi di queste decisioni che Conte ha preso con le sue task force, non so con chi altro, in questo sistema democratico nel quale ci troviamo, lo spero, e quando arriveranno le valuteremo insieme a voi come sempre e cercheremo di fare quello che possiamo fare per dare una mano a questa nazione che ormai ha governi che decidono della libertà, della vita, del futuro, del destino di milioni di persone senza ritenere di doverlo confrontare con nessuno. Come si fa nei migliori regimi di altri tempi. Ci lavoriamo, ci sentiamo nelle prossime ore, quando abbiamo i testi vi saprò dire qualcosa di più. Spero di essermi sbagliata, come sempre. Spero di essermi sbagliata, spero che le cose che non siano così, perché francamente non lo condividerei. Penso di avere il diritto di dirlo in quello che rimane della nostra democrazia. Ciao, buonanotte.